Benvenuti ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Continua il corso dedicato ad Adobe Audition Questa è la terza lezione, anche questa lezione aperta e gratuita per tutti gli iscritti e non a questo canale YouTube Attenzione perché dalla prossima lezione in poi inizia la parte dedicata agli abbonati Quindi se vi piace questo corso e volete scoprire non solo come funziona Audition Perché di questo parliamo in questa serie Ma anche come si monta un video con Premiere Pro o con After Effects Vi consiglio di abbonarvi L'abbonamento costa solo 3 euro al mese Quindi ipotizzate di incontrarmi 3 volte al mese e di offrirmi un caffè ogni volta E questo abbonamento vi darà diritto ovviamente all'accesso ai contenuti esclusivi Che in questo momento comprendono i corsi completi di Premiere Pro e After Effects E questo corso che è in svolgimento Quindi non vedrete subito i contenuti completi di questo corso ma è un corso che porterò avanti da qui ai prossimi mesi Quindi una volta a settimana, due volte a settimana vedrete una nuova lezione Bene, dicevo nella scorsa lezione abbiamo visto come funziona l'audio, la gestione dell'audio di un singolo file In altre parole abbiamo importato un file, abbiamo visto l'editor come è organizzato Abbiamo parlato del meter e ci siamo lasciati dicendo che c'è un'altra modalità per lavorare con l'audio in audition Questa modalità è costituita, è composta, è caratterizzata dal multitraccia Che cos'è il multitraccia? Beh, facciamo una cosa, guardiamolo e tutto vi sarà più chiaro Per accedere alla modalità multitraccia basta cliccare qui in alto, a sinistra, sul bottone multitraccia E guardate cosa accade Olè, c'è una finestra La finestra ci domanda, dai un nome al tuo progetto? Qui sì che iniziamo a parlare di un vero e proprio progetto Ecco perché nelle scorse lezioni vi ho fatto questa distinzione sull'utilizzo della parola progetto in audition Quando lavoriamo con il multitraccia dobbiamo per forza di cose organizzare tutto in un progetto Un po' come facciamo in Premiere o in After Effects o in altre applicazioni Adobe Chiamiamo questo progetto demo, ok? Indichiamo una cartella, questo è importante, in cui andremo ad organizzare il nostro progetto E questa cartella creiamo la prima cartella del progetto, lo chiamiamo, non so, progetto demo, ok? È un po' contorto come organizzo le cose, forse sì, però è bene essere precisi quando organizzate il materiale, ok? Quindi io so che sto organizzando questo progetto nella cartella dedicata ai tutorial di audition Nella sottocartella demo Tutto quello che farò finirà qui dentro Così se un giorno volessi buttare tutto posso farlo senza paura di lasciare tracce sparse inutilmente nel computer Clicco su selezione a cartella, poi vado ad indicare altre cose che per il momento potremmo anche trascurare Visto che siamo veramente in una fase introduttiva Però rapidamente è importante che la frequenza di campionamento sia almeno a 48.000 Hz Che la profondità di beat sia a 32, potete anche scegliere un valore più basso, ma io consiglio già che ci siamo di stare almeno a 32 E che il mix finale sia stereo Per il momento lasciate così, ok? Clicchiamo su ok e guardiamo cosa accade Wow, cambia tutto L'editor si trasforma, non c'è più l'editor a cui eravamo abituati prima E' una sorta di timeline, ok? Organizzata, questa timeline, su più tracce, ok? E' facile capire a cosa servono queste tracce Noi possiamo andare a montare un progetto audio Non so, sulla prima traccia potremmo mettere uno speaker che parla Sulla seconda traccia potremmo mettere la musica Sulla terza traccia potremmo mettere degli effetti audio e via dicendo Ogni traccia avrà i suoi effetti, ogni traccia avrà i suoi volumi E tante cose che possiamo fare con l'editor del progetto multitraccia Quindi, due modalità per lavorare in audition La prima è la modalità classica Torniamoci indietro cliccando sul bottone forma d'onda Eccolo qui E non è altro che la riproduzione della singola forma d'onda Del singolo file su cui abbiamo intenzione di lavorare Mentre poi abbiamo la modalità multitraccia Che è legata ad un progetto E che può ospitare più forme d'onda Più file Per esempio, prendiamo un file e lo trasciniamo sulla prima traccia Prendiamo un secondo file e lo trasciniamo sulla seconda traccia E vedete che io adesso posso gestirli come se io montassi per esempio in Premiere Sono degli elementi che posso andare a tagliare Lo vedremo meglio nelle prossime lezioni, non vi preoccupate Andare a tagliare Posso ovviamente spostarlo Vedete, posso fare quello che voglio Montare un audio a tutti gli effetti Un po' come montassimo un video per esempio Posso applicare delle transizioni Ovviamente per quanto riguarda l'audio Le transizioni non è che ce ne siano poi di così fantasiose Delle dissolvenze possiamo parlare meglio E tante altre cosine Vedremo meglio nel dettaglio Nelle prossime lezioni Come lavorare con il progetto multitraccia di Adobe Audition Nella prossima lezione però facciamo un piccolo passo indietro E torniamo nella modalità più semplice ovvero nella modalità forma d'onda Per iniziare a capire come lavorare in questo ambiente Poi più avanti nelle prossime lezioni Torneremo nella modalità multitraccia E inizieremo a vedere come gestire le singole tracce Come lavorare con il mixer Vedete qui finalmente adesso abbiamo un mixer Come applicare gli effetti E tante altre cose molto interessanti Bene termina così anche la parte tra virgolette gratuita di questo corso Aperta a tutti gli iscritti e non a questo canale YouTube Se avete piacere iscrivetevi a questo canale Se volete proseguire con questo corso Io vi consiglio di abbonarvi 3 euro al mese Non sono tantissimi probabilmente Però a me aiutano davvero molto per portare avanti questo progetto Sono 3 caffè che mi offrite 3 volte al mese Quindi alla fine forse non è nemmeno un prezzo così sconvolgente Passatemi questa parola Pubblicherò una nuova lezione a settimana Una, due lezioni a settimana Per le prossime settimane Quindi se Oggi siamo a fine novembre 2022 Se vi abbonate adesso Troverete sicuramente i corsi di Premiere E i corsi di After Effects completi Ma non troverete per adesso altre lezioni di Audition Le prossime lezioni verranno solo per voi abbonati Nelle prossime settimane Quindi, anzi, nella settimana prossima Direttamente ci sarà la quarta lezione Quindi se vi fa piacere abbonatevi Iscrivetevi Altrimenti Comunque contenuti gratuiti saranno sempre pubblicati in questo canale YouTube Grazie ancora per avermi seguito Grazie per il supporto Commentate per dubbi E per qualunque necessità Al prossimo video tutorial Ciao